San Giorgio in Bosco. Furto nella notte nella ditta Saur del Mar in via Buonarroti. I ladri sono riusciti ad entrare scardinando l'ingresso che porta agli uffici. Una volta all'interno con un tombino di ghisa hanno sfondato la cassaforte a muro e sono riusciti a rubare i soldi contenuti all'interno.